ciao a tutti da staski cioè faccio affidare delle persone avevo guardato alcuni nani e avevano rifato tutto tipo sto cammino che erano presi i fari di gondor eccetera sopra erano rotti i vetri qua nella sala armature nel museo si erano rubati proprio tutto però grazie a loro ora posso fare un altro tutorial quindi vi faccio un tutorial sulle fazioni perché questa stanza non l'avevo fatta io l'avevo fatta Tati e io le fazioni non ce capisco niente però ora l'ho rifata io quindi andiamo a chiedere sopra e vediamo la prima è hobbit negli hobbit eccola qua poi c'è l'ho fatta in ordine ramini del nord monti azzurri ali di elfi gundabard animar premio degli eserci sui vanni toghi indusdale popolo di turi ma storia vabbè eccetera eccetera questi sono tutti tanti le mie alleati murk, fard, rovin, fard, lord, margot e poi se andiamo su quella peccetta c'è vicino a red marwey turan, hill, mercy troll vicino a red ok poi andiamo su ci stanno quindi l'ho messe tutte in ordine in base a cosa sopra e poi che è fino al zunder qua, poi ci sono altre equazioni che sopra non le posso vedere, non ho capito bene perchè quindi ci stanno giù all'amont, poi questi sono sempre regge e questi sono tutte le armature di goddor e anche questa qua è gondolinian, queste sono quelle che non si possono graffitare, poi ci stanno i black guru eccetera 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 e questo è il simbolo di durin perchè ce l'ha solo il re, infatti è da giusta, vabbè poi l'ha giusto lasciati il durin, ce l'ha solo l'imperatore di durin, cioè io e qua c'è l'arkeston che mi ha dato a con le mani, che da sulle città forse e resistenza, ma ritorniamo alle equazioni, facciamo, premiamo il tasto L, quindi se voi dovete fare una cosa con le graphite, vediamo eh, il black guru, vedete mi chiede il più 1, come si ottiene il più 1 con gli uruk, andiamo su L, facciamo qua, facciamo qua, ecco le, dovete andare su, faccio, fazioni, girate, questi sono gli hobbit, allora, gli hobbit allineamento 231, sono campione degli hobbit, ucciso 26666 nemici, quindi questo completato 0, se vedete qua nell'arcolino del libro c'è la pagina di pensare, la dell'app, ed dice gli alleati, gli amini, gli alleati e i loro nemici, quindi se voi uccidete gli alleati, l'allineamento scende, e questo è importante, perché io l'ho capito solo ora, che si vive, vabbè, solo ora, perché infatti quando mi eseguava l'allineamento alto, lo chiedeva a qualcuno, quindi questo è il tutorial, però, oggi, che ci sta nel servo, che c'è un uomo, e c'è un uomo, quelli che sono stati bannati, sono fermo e niente dall'asse, che hanno privato veramente tutto, ci ho messo tutto ieri a costo, sono stati bannati in tre giorni, perché, di più argomenti, non è per nesso di fare, non è per nesso, c'è il bannati, quindi non lo fate, iscrivetevi al canale, e lasciate tanti like, as a scrivere, ciao a tutti, ciao, ciao